Radio Sport, il programma sportivo di FM Italia. Ogni lunedì dalle 16, le notizie e i commenti su tutti gli sport della nostra provincia. Radio Sport, seguici in radio, in tv, in streaming o sull'app ufficiale di FM Italia. Tutte le squadre, tutto lo sport, solo su FM Italia. Un appuntamento Decathlon. Official Partner. Buon pomeriggio, 16 e 7 minuti, eccoci in diretta FM Italia, FM Italia TV, quindi la radio manca in televisione, canale 872 del digitale terrestre. Si parla di sport, ovviamente c'è Radio Sport. Ho appena detto anche la sigla, il che significa che c'è pure Manuel Bisceglie. Ciao caro, bentrovato. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Dunque, è un lunedì un po' strano, no? Perché ci regaliamo anche il Monday Night, chiamiamolo così. Non è stato soltanto il fine settimana dedicato ai match, alle gare delle squadre siracusane impegnate nelle varie discipline. Visto che questa sera per il calcio, il campionato di Serie C, si gioca, o meglio, gioca il Siracusa con la Regina. Posticipo al Nicola De Simone, 20 e 45, fischio d'inizio. Ne parleremo, Gemma, ci arriviamo gradatamente. Intanto, proprio informazione base, si gioca questa sera. Ci sono tutta una serie di offerte, non è che faccio il piazzista. Le offerte, no, ci sono delle iniziative per biglietti a prezzo particolarmente agevolato per Under 12, un euro più i diritti di prevendita, quindi andate, correte per la gradinata, andate a prendere quelli che sono rimasti disponibili, così poi salutate casa, visto che c'è anche la diretta della Rai con Rai Sport. Le scuole calcio entrano gratuitamente e cosa mi sto dimenticando? C'è sempre, incontriamoci... Le offerte, sì, per le donne, per gli over 65, quelle rimangono invariate. E anche lì il prezzo è chiaramente scontato. Ma di Siracusa Regina ne parliamo più avanti, perché dobbiamo partire questo pomeriggio, la nostra analisi d'altro, ad esempio, da salutare. Buon pomeriggio. Presidente, ti diamo il tempo di incuffiarti. Eccoci qua, il nostro primo ospite di giornata, Valerio Vancheri, presidente del Circolo Canottiere Ortigia. Bentrovato. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Tutto bene? Beh, vediamo. O salito di corsa, gradini A2-A2. Più o meno, sì. Cosa abbiamo fatto? Va bene, va bene. Allora, intanto leviamoci subito il primo problema di torno. Presidente, possiamo passare scandalosamente al tu colloquiale sportivo senza tenere lei istituzionale? Siamo amici da vecchia data e ci tengo. Perfetto. Bisceglie Vale per me, perché l'ha detto guardando me qui in Iturio. Va benissimo. No, 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 no. Si scherza, perché avrete capito. Parliamo subito di pallannuoto. Per, intanto, un motivo fondamentale, c'è una squadra che ha preso un'identità precisa e anche un posto preciso in classifica. Ha sgomitato, si è incastrata lì al quarto posto e adesso dice Final Six Scudetto. Va bene, tolgo l'ultima parola Scudetto, però Final Six, perché no? Final Six, intanto, credo che lo sappiano tutti ormai, che ospiteremo qui a Siracusa 25, 26, 27 maggio, questa grandissima occasione di grande visibilità del nostro sport. La grande pallannuoto d'elite verrà qui a Siracusa. Sei squadre per la Pool Scudetto, quattro squadre per la Pool Retrocessione, quindi parliamo di dieci squadre. Un evento che ci vedrà impegnati per tre giorni con la pallannuoto, ma contiamo di fare una settimana di eventi in Cittadella dello Sport per coinvolgere veramente tutta la cittadinanza. Una splendida occasione. Sono settimane che io e Bicelli diciamo che è ufficioso, ora possiamo dirlo che è ufficiale. Non prendete altri impegni perché c'è solo questo impegno. Ma sì, allora ricordiamo le date, Final Six, quindi si assegna lo scudetto per quel che riguarda questa stagione sportiva, lo scudetto di pallannuoto a Siracusa dal? Dal 25 al 27 maggio, ma sottolineo il fatto che sarà una settimana di eventi dedicati alla città, allo sport, a tante discipline, non solamente alla pallannuoto. Pallannuoto che, ricordiamolo per chi forse è quell'unico che non lo sapesse, che vede l'Italia tra le primissime nazionali al mondo, tra le primissime nazioni al mondo. Quindi avremo la miglior pallannuoto del mondo a Siracusa dal 25 al 27 maggio. Anche perché le tre squadre là degli alieni poi vincono dappertutto, pure in Europa, stanno lì che comunque dettano legge anche fuori ai nostri confini. Recco, Sport Management e Brescia, tre fra le migliori formazioni al mondo e che verosimilmente si contenderanno lo scudetto. Però non dimentichiamo il fatto che ci sono altri due posti per le coppe europee, quindi cinque squadre su sei della Final Six l'anno prossimo saranno impegnate nelle coppe europee. Il presidente dell'Ortigia lo sta dicendo a se stesso, lo sta ricordando a se stesso. Non dimentichiamoci che poi... C'è in palio comunque tanto, qualunque partita sia fra le sei che si contenderanno lo scudetto che le quattro per la retrocessione, conta un'intera stagione. E ora... Io a Valerio volevo chiedere proprio questo. È chiaro che le tre davanti sono chiaramente oggi inarrivabili per la forza, ma quanto c'è di desiderio vostro di un giorno poter cercare di avvicinarsi magari a queste tre? Intanto che si dica inavvicinabili è relativo. È vero che nella palla a nuoto i pronostici possono anche farsi. Però dico semplicemente, l'anno scorso la Canottieri Napoli, una Canottieri totalmente italiana, finale terzo e quarto posto, riuscì a battere lo Sport Management. La settimana scorsa, sabato scorso, a Catania, il Catania settima in classifica, ha dato filo da torcere alla Sport Management seconda in classifica. Quindi diciamo che può contare il fattore campo, può contare la partita secca, ci sono tante variabili. Indubbiamente però ci sono tre squadre. Che è pazzesca quando ci si mette di impegno. Quando ci si mette di impegno, sì, fra l'altro abbiamo intenzione di allestire la piscina, sarà veramente una grandissima festa. La conoscete, la cittadella dello sport, la Paolo Caldarella, quando si veste a festa risponde sempre degnamente. I centri impegni della nazionale, parlano chiaro da quel punto di vista. Però allora, lo vogliamo dire o no, che l'Ortigia è quarta. L'Ortigia è quarta, è una posizione che non raggiungevamo dai tempi di campagna e Caldarella, questo bisogna sottolinearlo. Bisogna stare anche molto coi piedi per terra. Grandissimo lavoro della società, grandissimo lavoro di Stefano Piccardo. I ragazzi che stanno rispondendo, direi al di là del professionismo, perché ci credono veramente e hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. Poi, che sia quarto, quinto o sesto posto, l'importante è arrivarci. Abbiamo 13 punti di vantaggio sulla settima, è un buon bottino, speriamo di non sprecarlo. Abbiamo ancora sette partite della regular season. Incrociamo le dita e non facciamo ulteriori pronostici. 13 punti di vantaggio sulla settima, voglio dire possiamo orsare dentro la griglia della Final Six, perché bisogna chiudere tra i primi sei. Però facciamo anche un attimo di cose. Va bene, c'è tempo, stiamo fantasticando, presidente. Però facciamo di conto, arrivare ai quarti, poi anche in griglia... Quarti o quinti è esattamente la stessa cosa. Quella possibilità di dire, vabbè, io magari in semifinale ci arrivo, poi forse mi fermo lì perché abbiamo detto di irraggiungibile. Stiamo veramente facendo fanta pallannuoto. No, però quando arrivano i playoff uno ragiona anche sugli abbinamenti, la posizione. Faccio anche tutti gli scongiuri del caso, però fra quarto e quinto posto è del tutto irrilevante perché si incontreranno fra di loro. E quindi essere o quarti o quinti va benissimo e va bene così. Il sesto posto ti impone di incontrare la terza, quindi una delle tre grandi, e quindi già lì diventa molto più difficile. Quarto o quinto posto è un ottimo piazzamento anche per la griglia dei... Biceglie ci ha dato l'obiettivo per la stagione regolare. Eh beh, sì, sì, ma io penso che, come diceva Valerio, poi alla fine questi calcoli sono relativi. È importante esserci, è importante partecipare a questa grandissima festa della pallannuoto a cui, devo dire, peraltro, insomma, Siracusa da qualche anno ci ha abituati con la nazionale. Insomma, ormai la cittadina... Parato buono, eh, ci abbiamo fatto la bocca. Eh beh, sì, sì, da questo punto di vista. Torna la nazionale anche d'estate? Noi speriamo di farla tornare prima. E allora, se mi consentite, vi do una primizia anche su questo. Ci stiamo lavorando, stiamo tentando di organizzare. Quest'anno il Circolo da Notire Ortigia festeggia 90 anni. Il 15 aprile, 90 anni dalla fondazione. E abbiamo in mente di fare una bella manifestazione. Una bella manifestazione che dovrebbe coinvolgere anche la presenza del Settebello. Si parla di una cerimonia di celebrazione, si parla di una partita Settebello contro Ortigia. Quindi vorremmo festeggiare al meglio. L'occasione per rivedere Vancheri con la calottina. Eh, magari, perché no? Non sei tra i convocati, Presidente. Adesso sei tu quello che sta fantasticando. Devo riuscire a convincere non certo campagna. Forse Piccardo con la calottina numero 14 mi fa portare i palloni per l'Ortigia. Ora, noi stiamo sorridendo. Però ora dobbiamo voltare pagina. E qui i sorrisi forse sono un po' più amari. Perché il dispiace del Presidente è quello di tutti gli sportivi. Attualmente abbiamo un problema. Ed è proprio la già citata piscina caldarella. Tutti ci chiedono che sta succedendo? Com'è la situazione? Perché un po' di confusione poi subentra. Gira di qua, gira di là. Allora, prima c'è una segnalazione. Poi si mette tutto nuovamente a posto. Tutto in regola, tutto perfetto. Poi arriva un'altra segnalazione. Beh, non è proprio tutto perfetto, precisissimo. E quindi stoppiamo di nuovo tutto. Presidente Vancheri, l'Ortigia, che è a capo anche del pool di gestione della Cittadella dello Sport, ci può raccontare che sta succedendo e com'è la situazione? Sì, vi farei vedere la memoria del mio telefono, la rubrica. È intasatissima perché questa è la domanda del giorno, in effetti. Partiamo da un presupposto fondamentale. Anzi, se mi consentite, proprio due minuti di costruzione. No, 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 non è una digressione, è proprio una ricostruzione storica di quel che è successo e che sta succedendo. Ad oggi è inibita. Non è neanche così, perché l'ultima comunicazione da parte dell'ufficio politiche sportive è un invito, in attesa di avere gli ultimi risultati dell'ultima campionatura di analisi, un invito a evitare di andare in acqua, il che non significa esattamente ti do un ordine che devi chiudere, che non devi utilizzare la vasca. Il tutto parte a metà dicembre. Teniamo conto che la convenzione tra il comune e il gestore è stata stipulata il 4 dicembre. A metà dicembre, su segnalazione di un genitore, vengono effettuati dei controlli sulla vasca piccola, sulla vasca da 25 metri, quella per l'addestramento al nuoto. Questi controlli evidenziano delle piccole, minime criticità per cui ci viene chiesto di eseguire determinati interventi. Interventi che vanno fatti sui filtri, su in parte le condotte di ricircolo dell'acqua e sull'acqua. Sono stati effettuati sulla vasca piccola degli interventi radicali, tanto che è stato completamente ristrutturato l'impianto di ricircolo dell'acqua. In ogni caso vengono effettuati degli interventi massicci sui filtri. All'esito non solo di questo ciclo di sanificazione, ma di una serie di cicli di sanificazione, i risultati analitici su questi tre blocchi, quindi filtri, tubazioni e acqua della vasca piccola, sono totalmente a norma. Tant'è che la vasca piccola viene abilitata per poter essere utilizzata. Non abbiamo alcun provvedimento di inibizione della vasca piccola. E questo significa che va ringraziato... Vale anche oggi? Vale anche oggi. Quindi la vasca piccola lavora regolarmente? È a pieno ritmo e in piena funzione. Quindi va ringraziato il genitore che ha segnalato, vanno ringraziati i funzionari dell'ASP che sono intervenuti consigliandoci che interventi fare e dove farli. Tanto che c'è un lavoro di totale collaborazione e sinergia perché il servizio venga reso nel miglior modo possibile. Già che ci siamo, noi stessi in autotutela abbiamo richiesto e avviato lo stesso tipo di interventi anche per la vasca grande, per la vasca all'aperto, per la vasca a caldarella. Che è quella che magari proprio perché è all'aperto magari può presentare qualche criticità in più? Eh sì, infatti a lì devo arrivare. Partiamo anche lì da un altro presupposto. Abbiamo quattro filtri. Vengono rilevate delle criticità su un filtro. Perché si fanno anche sui filtri. Si fanno anche sui filtri i campionamenti, certo. Perché è da lì che passa l'acqua. È chiaro, è chiaro. È proprio la struttura che deve inibire la diffusione di eventuali batteri. E ci sono quattro filtri. Uno solo risulta con delle minime criticità ed è stato totalmente sanificato e bonificato. Per cui mi risulta che le campionature successive escludono presenza di batteri sui filtri. Così come viene fatta una massiccia opera di sanificazione anche sulle tubazioni, gli ultimi campionamenti non quello di cui attualmente si attendono i risultati evidenziano concentrazioni minime, minime. E ora spiegherò che cosa significa. Perché c'è un range di tolleranza. Di tolleranza, esatto. C'è un range di tolleranza. Una concentrazione minima sull'acqua. Che significa, e qui vengo alla tua domanda, perché nella vasca piccola coperta gli stessi interventi ti portano il risultato zero, la vasca grande, gli stessi interventi solo sull'acqua, quindi non più sui filtri e sui tubi, ma solo sull'acqua. Perché è una vasca all'aperto. C'è la famosa contaminazione ambientale. È chiaro, c'è la famosa contaminazione ambientale. Siamo in un momento in cui abbiamo avuto delle piogge. Quindi, a questo punto, però, Presidente Vancheri, perdona, mi interrompo la domanda che si fanno tutti, non solo proprio gli agonisti, ma lì poi, sappiamo, durante la giornata c'è, no Manuel, tanta attività, le società di nuoto, ci sono comunque ragazzi che hanno l'età che stanno iniziando l'agonismo, 9, 10 anni, eccetera. Quindi c'è attività continua. E allora poi alla fine tutti si domandano, ma c'è rischio? Perché è stata... L'acqua delle due vasche non è mai stata così pulita. E anche qui va ringraziato l'intervento dei funzionari dell'ASP perché sanno di avere a questo punto un interlocutore valido e a lunga scadenza, quindi collaborano con noi perché il servizio si è reso nel miglior modo possibile. Tanto che oggi come oggi l'acqua delle due vasche della cittadella, io non temo smentite, è sicuramente pulita come non è mai stata. Dico anche che se si fa un paragone con tutte le piscine d'Italia e non mi limito solamente a quelle della nostra zona, io credo che ci siano valori... Una domanda malandrina? Mai vista. Che dite? Faccio la domanda malandrina? È il punto, alle 16.22, visto che ci sono anche gli amici che ci seguono sulle nostre pagine Facebook, ho messo le mani avanti, la domanda è malandrina. Ma Presidente Banchei, ma perché tutti questi controlli, c'è tre nel giro di tre mesi e tutti adesso? No, no, allora, anche qui sfatiamo un mito. Siamo noi che in autotutela abbiamo istituito i registri per il monitoraggio continuo di livelli di clorazione, di sanificazione, gli esami batterici. Per la prima volta in cittadella voi troverete che basta aprire un cassetto e troverete lì tutti i registri. Siamo noi che abbiamo chiesto a questo punto la collaborazione degli uffici pubblici perché insieme a noi si intervenga nel miglior modo possibile per eliminare da qui ai prossimi 15 anni qualsiasi dubbio di contaminazione. 15 anni non sono citati a caso, è la durata della gestione. È la durata della gestione, esatto. Quindi siamo noi stessi in autotutela, sottolineo in autotutela, ad avere avviato questa campagna di monitoraggio. come farla? Farla presso laboratori accreditati, possibilmente pubblici, come l'ultimo al quale ci siamo rivolti, in maniera tale da avere il massimo della trasparenza. E il termine non è utilizzato a caso. Però a questo punto io mi chiedo ma ora come funziona? Adesso ci ha spiegato il presidente Vancheri, correggimi Manuel se sbaglio, per il momento è il consiglio che vi hanno dato, la piscina caldarella della cittadella dello sport, per ora se potete, se non vi dà disturbo, evitate di utilizzarla ed è quello che state facendo. La vasca piccola, regolare, tutto a posto, nulla da eccepire, si lavora tranquillamente. Cosa si aspetta per poter utilizzare anche la caldarella normalmente? Come tutti i campionamenti che tendono alla ricerca della presenza di batteri, necessita dei tempi di coltura. Fatto un prelievo, fatto un campionamento, occorre attendere un X numero di giorni perché si abbia un risultato certo. Quindi siamo in attesa, gli ultimi campionamenti sono stati fatti mercoledì scorso, siamo in attesa degli ultimi risultati. Se, come pensiamo e speriamo, gli ultimi risultati sono tranquillizzanti, ma torno a dire, parliamo di eventuale zero o prossimità allo zero, che non esiste in nessuna piscina del mondo, se siamo in questi termini, noi un minuto dopo aver avuto i risultati dei campionamenti, riapriamo le porte. Quindi oggi non possiamo dire, Valerio, se l'Ortigia la prossima gara casalinga la giocherà proprio per i motivi che dicevi tu, giusto? La prossima gara casalinga sarà con il Recco il 14 di aprile, quindi abbiamo tutto il tempo per... Allora, non è... Ieri giravano anche voci tipo prima di maggio non si riuscirà a far nulla... Ma io ho sentito voci che ogni tanto si nuota... C'era un po' d'acqua nei batteri dentro i quali nuotavamo, no? Ragazzi, il problema... Un provocatore, meglio di me! Il problema è sempre che nel nostro paese, nella nostra città in particolare, tutti parlano di tutto senza sapere di cosa. Invece bisognerebbe prima un po' informarsi meglio. Siamo noi che ci teniamo particolarmente a che quel gioiello, così lo definiscono tutti, sia fruibile al meglio per tutti, dal bambino di tre anni all'anziano di 80 anni. In mezzo ci stanno gli agonisti, ma tutti hanno diritto alla salute e i primi a esserne consapevoli e responsabili siamo noi. Quindi non è un... Non sta succedendo uno scatafascio, non sarà chiusa... Non bisogna dare la caccia all'untore. Si sta mettendo a posto, si aspetta proprio la certificazione certificata e poi via, si riparte, ma è questione di giorni, non rende... Probabilmente è questione di ore. Ah, ecco, meglio ancora. Potete per favore farci avere il risultato ora, mentre se abbiamo mancheri qua, vediamo come esulta. Però, tornando poi all'incrocio, tra l'impianto sportivo, che è fondamentale per fare attività sportiva, come sta facendo l'Urtigia, livelli altissimi in Serie A1, quest'anno nel campionato di pallannuoto, ne abbiamo parlato in apertura, l'attuale quarto posto, che se anche diventa quinto il presidente non sa rabbia, l'importante è che arriviamo belli tosti alla Final Six, che abbiamo capito, si gioca a Siracusa è un ufficiale, però una cosa, io da sportivo, per esempio sabato scorso, non avete potuto giocare alla Caldarella, l'Urtigia è andata a giocare e vincere a Catania. Però io ragionavo, lo facevo prima anche con Manu, che strano, poi in tutta la provincia, però un altro impianto disponibile non esiste, ma negli ultimi 25 anni di politica sportiva, ma che abbiamo fatto? Qualcuno di voi conosce la piscina di Augusta? È chiusa da Augusta, c'era anche una bella squadra, è diventata una discarica, c'era una bella squadra, tanti anni ci ho giocato anch'io, mio fratello, insomma tanti amici, tante bellissime esperienze, una piscina che era anche lo spauracchio del campionato, ma poi è bella perché la facciava quasi sul mare, è sul mare, sì, ed è completamente abbandonata, no, piscine di dimensioni sufficienti per poter giocare a pallannuoto nella provincia di Siracusa non ce ne sono, le più vicine sono a Catania, ma è anche questa una cosa secondo me su cui bisognerebbe riflettere e interrogarsi, ma non chi lo sporta comunque con coraggio, perché questo signore è un... Follia più che coraggio. infatti volevo dire che volevo essere più rispettoso, quindi parlavo del coraggio di Valerio Vancheri, dei dirigenti dell'Ortigia, ma di tutti i dirigenti che in generale fanno sport a certi livelli dalle nostre parti sapendo che è una bellissima avventura a perdere su ogni fronte. decisamente. Vedi anche questo, un piccolo contrattempo e devi andare a Catania perché in tutta la provincia di Siracusa ti guardi attorno e non sai cosa che devi fare. Caro Bisceglie, qualcuno dovrà anche spiegarci mentre parliamo di turismo, insomma delle solite cose di cui parliamo da un centinaio d'anni a questa parte. Perché il fatto di inventistica sportiva non si è mai fatto nulla, questo è quello che... Bravo, se io ero partito lungo e tu mi hai sintetizzato benissimo. Che questo è anche il filo conduttore della puntata perché tra poco parliamo di un'altra struttura importantissima e meno male che c'è ed è il Campo Scuola Pippo di Natale. Dal 3 aprile cominciano i lavori, sentiamo anche la voce di dei diretti interessati, cioè quegli altri folli che sono quelli che fanno l'atletica leggera. Valerio Vancheri, intanto grazie per tutte le notizie che ci hai portato in anteprima, complimenti all'Urtigia per i 90 anni perché organizzerà e ospiterà la Final Six, quindi l'assegnazione dello scudetto di pallanuoto qui a Siracusa perché festeggerà con la Nazionale 14, lo voglio vedere, io ho segnato, abbiamo le registrazioni ed è anche su Facebook quindi poi per quella partita lì veniamo a chiedere conto e ragione e a questo punto... Allora, forse lì non sono stato chiaro, si parla di una manifestazione a fine aprile, primo maggio, quella sarà la celebrazione per il 90. Sì, sì, stavo facendo i complimenti per tutto, stavo riassumendo tutto per arrivare poi all'attendiamo... Ora poi la data certa di riapertura che arriverà a breve dell'attività è la ripresa dell'attività, riapertura sembra brutto, è la ripresa dell'attività alla Caldarella e ci hai portato tante novità anche lì e così abbiamo risposto a quanti ci iscrivevano. Grazie Valerio Vancheri. Grazie a voi per avermi dato l'occasione di fare soprattutto chiarezza. Per carità, serviva, è giusto, ci siamo anche per questo. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, state lì che c'è la seconda parte di Radio Sport. Radio Sport Tutte le squadre, tutto lo sport, solo su FM Italia. Un appuntamento Decathlon Official Partner.